Intervista esclusiva nel Salone dell'Episcopio di Lamezia insieme al Vescovo della Diocesi Lametina, Monsignor Luigi Cantafora, a Don Andrea Latelli e al Dottor Pietro Papoff, direttore del Consorzio ELIS. Scopriremo fra poco che cos'è questo consorzio e cosa andrà a fare nella Diocesi Lametina un progetto ambizioso, importante, che ha un unico grande obiettivo, la promozione del talento dei nostri giovani. Io ringrazio il Dottor Papoff perché abbiamo parlato prima di iniziare questa intervista e il progetto è veramente molto accattivante, molto intrigante perché è ambizioso, è una sfida ed è un momento di ulteriore speranza di luce in una regione come la Calabria che sappiamo figurare sempre come fanalino di coda negli ultimi posti di tutte le classifiche. Una iniziativa voluta fortemente dalla nostra Diocesi e fra poco parleremo anche con il nostro Vescovo ma diciamo prima di tutto che cos'è il Consorzio ELIS. Allora dovete fare uno sforzo di immaginazione e pensare a una città di quattro ettari perché così è l'ELIS, si trova nel quartiere Casal Bruciato a Roma, un quartiere molto popolare ed ha una storia ancora più speciale perché è il frutto di un donativo di cattolici al Papa. Giovanni XXIII a fine anni 50 decise di realizzare quest'opera affidando nell'esecuzione a San Cosè Maria Scrivata e Balagher che è stato il fondatore dell'Opus Dei il quale aveva un messaggio estremamente semplice di dire guarda tu puoi trovare Dio se lavori bene, se lavori con competenza, se il tuo lavoro serve a migliorare la vita delle altre persone. E quindi ELIS nasce con questo obiettivo, aiutare i giovani a costruirsi questo sogno, la mia vita deve diventare un capolavoro e attraverso il mio lavoro devo lasciare una traccia profonda nella società. Per poter lasciare questa traccia profonda però è necessario essere competenti. Da qui l'idea di un percorso formativo che punta su due elementi, da un lato costruire il tecnico, ma questo lo sanno fare tantissime scuole, quindi questo ELIS non sarebbe diverso dalle altre, ma dall'altro invece tirare fuori il meglio da ogni persona, far crescere la persona da un punto di vista umano, farla crescere quelle che una volta si chiamavano le virtù, oggi le chiamiamo competenze relazionali, ma sostanzialmente insegnare a questi ragazzi il gusto di lavorare insieme per dei progetti comuni. Io sono stato qui in Calabria in questi giorni e mi è sempre stato detto uno dei problemi della Calabria che non si collabora molto tra di noi. Mentre si va in alcune regioni e c'è un forte spirito cooperativo, qui in Calabria le persone fanno fatica. Allora io penso che questo è un problema che hanno tutte le generazioni, tutte le persone. ELIS è nato proprio con questo obiettivo, aiutare le persone a avere dei sogni e a costruirli insieme, sapendo che però il prerequisito è la competenza, ecco per cui ELIS nasce come scuola. Dicevo sono quattro ettari perché ELIS ha una struttura residenziale, noi ospitiamo circa 300 ragazzi, quasi tutti del mezzogiorno, molti sono anche i calabresi che vengono da noi, moltissimi siciliani, stavo raccontando che da Gela adesso con la chiusura della raffineria moltissimi ragazzi vengono da noi a cercare lavoro. E quello che li spinge che cos'è? È aver saputo da altri amici, da parenti, da colleghi, che quando uno viene all'ELIS non solo trova lavoro, ma cambia come persona. Cioè la vera esperienza di coloro che vengono al centro ELIS è quella di un cambiamento personale, cioè riscoprono il gusto di fare cose grandi e di fare cose belle. Ora, ELIS bisogna vederlo, per cui semmai l'invito è farvi venire una volta al centro ELIS e vedere questo campus che ha tra l'altro quattro campi sportivi. Voi direte, cosa c'entra una scuola di formazione, quattro campi sportivi, due palestre? Perché lo sport abbiamo scoperto che è elemento fondamentale per far crescere le persone nelle competenze relazionali. Qui c'è Don Andrea che è un regbista, oltre che pallavolista. Noi usiamo il rugby nei corsi, per esempio, di meccanica. I ragazzi tre mattine a settimana giocano al rugby. Uno si chiede, ma qual è il senso? Io lo chiese a uno dei ragazzi e mi rispose, dice, qui abbiamo scoperto che come nel rugby per andare avanti tutti bisogna passare la parla indietro. Prendendo anche l'ultimo giocatore e trenarlo avanti. Questo senso di gruppo che si respira è la molla vincente anche dell'apprendimento dei ragazzi. Vi cito un caso. Noi siamo anche sede del Politecnico di Milano, un centro didattico del Politecnico di Milano. Il Politecnico ha consentito proprio a giovani non abbienti di non trasferirsi a Milano e di poter fare a Roma il corso di laurea. Questi ragazzi si sono scritti al primo anno al corso di ingegneria. A luglio tutti avevano terminato gli esami, erano in pari con esami. Chi sa come funziona l'ingegneria, sa che di solito c'è una mortalità altissima. Riuscire a fare tutti gli esami entro luglio è difficilissimo. Ci sono riusciti tutti. Erano dei geni? No. Erano persone normalissimi, ma che facevano molto squadra tra di loro, imparavano e studiamano insieme. Allora, prendendo spunto da questi elementi, io ho pensato, su richieste di Monsignor Cantafora, che tutta questa esperienza potesse essere replicata anche in Calabria. La Fondazione Santa Arcisa ha a disposizione un centro residenziale che può arrivare a ospitare fino a una trentina di ragazzi, strutture informatiche, sale attrezzate. Quindi ci sono tutti gli elementi per far ripartire un progetto analogo qui. C'è un gruppo armomotore che è formato da quattro persone che si sta prendendo il compito di fare questo progetto, di costruirlo. E quindi il grande sogno che stiamo accarezzando è dire che così come a Roma si è riusciti a dare, a cambiare la vita a tanti giovani del sud, proviamo a farlo proprio nel sud, qui alla Mezzia, a dare opportunità di cambiare la vita a tanti giovani, che oggi hanno alternative veramente limitate, perché spesso o vai a lavorare nel call center, vai a fare il pizzaiolo, vai a fare il cameriere, ma un lavoro degno di questo nome, bello, non sempre si riesce a trovare. E del resto succede il fenomeno paradossale che tante imprese cercano ragazzi e non li trovano. Quindi veramente attraverso la formazione, che va, ripeto, su questi due elementi, tanto la parte tecnica quanto quella comportamentale, si può creare un vivaio di giovani che possono diventare veramente uno stimolo allo sviluppo, alla crescita del Paese, e specialmente qui alla Mezzia. A me ha colpito molto vedere la disponibilità di tutte le persone, il grande entusiasmo con cui tutti ci lavorano, imprime Don Gino, Don Andrea, le altre quattro persone del Comitato Promotore. Abbiamo già fatto alcuni esperimenti, partiremo con un nuovo corso in autunno e quello che stiamo cercando di fare è proprio individuare tutti quei giovani che anche cercano un'alternativa ai percorsi universitari con qualcosa di immediatamente che ti porti direttamente al mercato del lavoro. La specificità dei corsielli è quella di dare certificazioni industriali, quindi non diamo un diploma statale, regionale, ma una certificazione riconosciuta al mercato del lavoro che non rilasciamo noi, ma rilasciano direttamente le aziende. Per esempio Cisco è una tra queste aziende, che è la multinazionale leader nel settore del networking. Eccellenza, come è nata l'idea di fare intervenire il consorzio ELIS per questa straordinaria nuova avventura di formazione e di promozione dei nostri talenti, dei nostri giovani? Questa idea è venuta fuori l'anno giubilare della misericordia e doveva essere uno dei segni, appunto, importanti. E un segno importante per noi sono i giovani, che mancano di lavoro, che vanno via, perché il lavoro dà dignità. E senza questa dignità, ecco, l'uomo non può assolutamente crescere bene, altrimenti prende vie molto alternative in tutti i sensi. Per cui il Signore mi ha fatto incontrare un po' con l'ELIS e lì abbiamo intessuto, insieme con il Dottor Pietro Popoff, cominciato a tessere questa rete, perché si potesse realizzare anche qui, alla Mezzia, una succursale, appunto, dell'ELIS, che certamente ha già spiegato con molta dovizia di particolare il Dottor Popoff, ma nello stesso tempo, ecco, è stata per noi una forte occasione per dare un input per questa idea così importante che in tutti questi anni abbiamo accarezzato, quello di far sì che i giovani possano trovare un modo come inserirsi, ecco, nel lavoro, direttamente nel lavoro. E ho visto che nell'ELIS questo è possibile, perché i ragazzi imparano, ecco, passano dalla teoria alla pratica, entrando in quel meccanismo di, diciamo così, di apprendimento molto concreto che fa sì che questi giovani possano trovare subito lavoro. Tutto questo è stato, ecco, durato in questi anni, ma soprattutto anche con molta fatica, perché far comprendere questo diventa un po' difficile, perché oggi si sente l'immediato, appunto, bisogno, ma con l'immediato bisogno, soddisfare un bisogno immediato, certe volte non porta a una continuità. Noi abbiamo preferito andare piano, ma andare fino in fondo, perché un giovane possa non rimanere deluso, ecco, per quanto riguarda un corso di formazione, ma possa sentire dentro la certezza che alla fine di questo corso può veramente lavorare, perché la cosa importante è il lavoro. Io vedo, per esempio, che questa idea è venuta fuori anche da un giovane, il quale mi ha portato una volta, una mattina, una mattina, ha chiesto una raccomandazione, la parola è brutta, ma è così, perché in questo nostro territorio, questo è una cosa che è di comune, di comune, diciamo così, di Valenza, di comune Valenza, ma io ho detto a questo giovane, intelligente, dico, guarda, io non so come cosa dirti, io ho una catasta di domande, di... Di chieste di ogni genere. Di chieste di ogni genere, per cui diventa difficile. Bene, questo giovane ci ha creduto e mi ha portato un piccolo affrontoio, affrontoio, dove lui fa olio, l'olio attraverso le varie parti, le varie olive, olive della Toscana, della Sicilia, della Calabria, eccetera, e lui voleva che io potrassi un imprenditore che sposasse questo progetto. Allora, io l'ho portato corregiosamente nei luoghi adatti perché potessero comprare questo progetto, ma vedendo subito io la grande curiosità suscitata da questo oggetto, allora io ho detto calma adesso, nel tuo ragazzo, continuiamo ancora a mostrarlo. L'abbiamo mostrato a circa 50 imprenditori di tutta Italia, che si trovavano appena a mezzo in quel periodo, in quel periodo, per un convegno, e presentai questo progetto. Bene, questo oggetto ha un costo abbastanza importante e andò a ruba, andò a ruba, e va a ruba ancora, perché uno può portare questo oggetto comodamente come un qualunque oggetto domestico per realizzare appunto quest'olio. Ora, come se ciò non bastasse, io sono andato all'Elisi di Roma e ho visto tanti lamettini, anche tanti crotonesi, potrei dire i nomi, ma per la privacy è importante mantenerli in segreto, ma vedere tanti ragazzi che si mettono un banco come gli artigiani a elaborare progetti, a elaborare strumenti e appunto di lavoro, appunto perché lì si passa dalla teoria alla pratica. Per cui l'imprenditore che magari spende, dona anche un contributo a queste strutture fa sì che un domani possa usufruire di questi giovani immediatamente e metterli nel campo del lavoro. Questi corsi di formazione si terranno nella sede di Sant'Arcisio di Via Conforti qui alla Mezzia, che è una sede storica, perché è stata, diciamo così, il centro spirituale, ma anche il centro di aggregazione di Monsignor Maiolo, che è stato un grande educatore, e una grande figura negli anni Sessanta. Chi ha i capelli grigi qui alla mezza ricorda bene quello che ha fatto Monsignor Maiolo e cosa poi è stato, insomma, trasmesso per quanto riguarda il suo insegnamento, la sua opera educativa e il suo ministero sacerdotale. Quindi questa casa rinasce e rinasce ancora con più vigore, con più forza, come un nuovo centro propulsore, moderno e d'avanguardia, ma sempre all'insegna della spiritualità. Sì, all'insegna della spiritualità e dell'aspetto educativo, perché Monsignor Maiolo, una grande figura della nostra diocesi, ex vicario generale, un uomo che ha speso la sua vita appunto per tanti orfani, che prendeva da piccoli, li portava anche al momento del lavoro, a imparare anche un mestiere. Ora, se Don Maiolo fosse vissuto in questo momento, avrebbe fatto la stessa cosa, perché aveva questo grande spirito di iniziativa, sapevo che il lavoro ha un'importanza grande appunto per la crescita di un giovane, perché senza lavoro tante volte manchiamo di quella spinta a crescere, a maturare, ad essere creativi, importante per un giovane. Allora, credo che abbiamo soltanto cambiato il volto, però il contenuto è sempre lo stesso. Il contenuto è appunto quello di educare dei giovani a un mestiere, a far sì che quello che hanno imparato diventi un momento, uno strumento pratico per poter accedere a tutti gli ambiti del lavoro. Quindi, Sant'Arcisio viene ricontestualizzata, una casa di spiritualità, di educazione, di formazione dei tempi moderni che sarà gestita dalla Fondazione Sant'Arcisio. Don Andrea Latelli, visto che ancora ne sappiamo pochissimo, chi gestisce la Fondazione naturalmente è la diocesi, ma chi se ne occupa proprio effettivamente, quotidianamente e credo che ci siano anche laici, non solo religiosi. Sì, ci sarà un pool, un'equipe proprio di giovani che già da diversi mesi stanno in silenzio con tanta passione, con tanto entusiasmo e veramente in uno spirito missionario ed evangelico elaborando un progetto davvero valido e saranno loro in realtà concretamente a gestire questa realtà. La Chiesa le accompagnerà per tutto per quello che è il suo compito nell'aspetto poi sostanzialmente poi spirituale e nel contattare anche quell'entusiasmo e quella speranza di cui si parlava prima. Il nostro Vescovo poi sappiamo che in tutti questi anni ha davvero con tanta convinzione messa al centro poi i laici e sarà così anche per la Santa Arciso. Saranno loro in prima linea a proporci davvero tanti progetti concreti per questi ragazzi. L'ispirazione di Fonda è proprio questo in fondo. Si parla tanto di povertà e ha ragione e i primi poveri sono i giovani. Sono poveri di speranza, di prospettiva, di orientamento ed è proprio questo che si vuole in qualche modo offrire in maniera concreta non a parole retoricamente una speranza e un orientamento per tutti loro. Visto che questo nostro bel conversare insomma sarà mandato in onda in emittenti locali e regionali diamo anche qualche informazione di servizio. Chi volesse saperne di più? A chi deve rivolgersi? A chi deve scrivere? C'è un indirizzo mail, una pagina Facebook perché oggi siamo tutti social? quindi ecco chi volesse partecipare a questi corsi di formazione cosa deve fare? Ci stiamo organizzando e prossimamente veramente in pochi giorni in realtà daremo tutte queste informazioni sicuramente ci sarà un'altra occasione per proprio comunicare tutti questi dati queste info necessarie. Comunque già contattare la diocesi della Mezzia insomma è già un approdo sicuro perché si avranno comunque delle notizie certe delle indicazioni ben precise. Certo, già si può fare riferimento proprio alla curia e all'episcopio ma come dicevo è questione proprio di pochi giorni e daremo tutte le informazioni usciremo naturalmente utilizzando i vari social i canali che comunque comunicativi che chiaramente oggi vengono usati. Monsignor Cantafora lei sta completando il suo mandato episcopale qui in diocesi fin dal primo momento ha avuto grande attenzione proprio per la sfera del lavoro per la dottrina sociale della Chiesa ha istituito una scuola che ha dato grandissimi frutti e ha dato grandissime soddisfazioni io credo che questa iniziativa con l'Elys sia un'ulteriore soddisfazione un'ulteriore traguardo raggiunto tra i tanti obiettivi del suo mandato episcopale non solo spiritualità non solo preghiera conoscenza del proprio io rispetto all'immanente al trascendente ma soprattutto anche la testimonianza del cristiano nella vita quotidiana e quindi soprattutto nel mondo del lavoro. Certamente tutto questo è venuto fuori da un cambio culturale perché siamo da 14 anni che noi abbiamo aperto delle scuole di routine sociale della Chiesa anche questo salone e in altri paesi le nostre scuole hanno sempre si sono prodigati a mettere a mettere in mano appunto ad imprenditori a uomini delle istituzioni e anche a semplici cittadini ora tutto questo questo cumulo appunto di informazioni ha portato all'esigenza anche di creare un posto dove si impara a lavorare e l'ELIS insieme con noi insieme con noi pendendo pendendo ecco in mano questo momento questo desiderio da parte da parte nostra vuole mettere insieme la loro esperienza più che più che di tantissimi anni con il desiderio da parte nostra di voler dare offrire ai giovani l'opportunità di passare dalla scuola al lavoro in modo repentino se realmente si aggregano in questo grande questo cammino che noi stiamo facendo attraverso appunto la fondazione della Santa Cisio Dottor Papoff per chiudere questa nostra intervista le vostre aspettative il vostro auspicio per questa iniziativa che va a prendere forma qui in Calabria guardi io oggi sono venuto qui ho visto con piacere il gruppo promotore sono pieno di speranza penso noi partiamo nel modo difficile cioè non useremo finanziamenti pubblici i corsi saranno a pagamento però proprio per evitare barriere di censo ci saranno borsi di studio offerte dalle aziende vogliamo fare in modo che ogni ragazzo che viene al corso lo vuole veramente quindi è disposto a investire anche a spaccare il suo salvadanaio per pagarsi l'iniziativa in modo tale da selezionare veramente quei giovani che stanno cercando un'occasione di riscatto sociale di salire attraverso un ascensore verso posizioni lavorative significative disposti alla mobilità geografica quindi oggi è impensabile di poter lavorare sempre allo stesso posto sempre nella stessa azienda il mondo è cambiato però con il grande desiderio qui questo sì che molti di questi giovani possano però tornare alla Mezzia possano lavorare qui oggi con lo smart working si riesce a lavorare a distanza avendo clienti che si trovano in tutte le parti del mondo per cui siamo qui con grande desiderio di far partire una nuova iniziativa di lanciare questo esperimento qui e speriamo che il seme gettato diventi un albero bene noi chiudiamo qui questa intervista dal salone dell'episcopio di La Mezzia abbiamo tante aspettative per questi nuovi corsi di formazione che prenderanno vita proprio nei locali della fondazione Sant'Arciso sempre qui nella diocesi la Metina ma naturalmente non ci saranno sono già iniziati dall'anno scorso sono già iniziati quindi abbiamo fatto tutto in silenzio perché era importante prima provare le nostre forze adesso le forze ci sono e allora andiamo avanti era importante gettare basi solide per un discorso continuativo lungimirante e duraturo bene grazie noi ci risentiremo vi aggiorneremo su questa nuova realtà che sta nascendo e che sta prendendo corpo e quindi lasciamo ringraziamo i nostri ospiti dottor Pietro Papoff direttore del consorzio ELIS don Andrea Latelli che è componente della fondazione Sant'Arciso e naturalmente il nostro vescovo Monsignor Luigi Cantafora che è stato promotore di questa iniziativa grazie a voi per averci seguito grazie a tutti